Sì, è un libro che parla del rapporto più incredibile, più sconvolgente, più bello che esista in natura, che è quello con la mamma, è un romanzo che parla di famiglia ed è un romanzo che parla soprattutto di donne, di quello che sono le donne italiane oggi, le donne attuali, perché insomma ritengo che le donne italiane siano veramente delle creature speciali, forse le donne per antonomasia e quindi mi piaceva parlare di queste creature assolutamente speciali. La protagonista è il tuo nome, come c'è della protagonista in te? In realtà tutti noi scriviamo di quello che siamo, di quello che conosciamo, sicuramente Chiara è una donna italiana attuale, ha tutte quelle caratteristiche di tradizione e di innovazione che io ritengo abbiano queste creature meravigliose, sono le donne italiane oggi.